Prima chiuso per motivi di sicurezza a giugno 2021, poi rimosso a causa del deterioramento del materiale in legno, poi sostituito con una struttura completamente in acciaio. Sabato scorso, alle ore 10, la tanto attesa inaugurazione. Si tratta del ponte ciclopedonale su Rio Barzotto, adiacente alla Flaminia, a Tavernelle di Colle al Metauro. 29 metri di lunghezza per 2,60 di larghezza e 22 tonnellate di peso. Una struttura ad un'unica arcata, completa di impianto di illuminazione a LED che i cittadini attendevano da tempo, in grado di garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni. A prendere parte alla cerimonia il sindaco di Colle al Metauro, Pietro Briganti, insieme ad alcuni amministratori locali, Don Pier Giorgio Sanchioni, paraco di Tavernelle che ha benedetto la struttura, le autorità militari e un gruppo di cittadini che ha voluto assistere al taglio del nastro. Sindaco, grazie a questo lavoro di squadra si è ottenuto un importante risultato. Un importantissimo risultato soprattutto per la località di Tavernelle che ha rivisto finalmente la possibilità di questo passaggio fondamentale, importante per la sicurezza di pedoni tra la Tavernelle vecchia e la Tavernelle nuova. Un ponte importante, importante nella struttura, importante nella solidità, importante nei materiali di costruzione che oltre ad avere sicuramente un aspetto estetico che ben si accosta a quello e l'aspetto che abbiamo intorno a questo ponte è fatto in acciaio, quindi con livelli di manutenzione molto bassi, una durabilità sicuramente molto elevata. Un ponte importante perché i cittadini erano costretti lungo questo percorso già presente di questa pista ciclopedonale ad attraversare questo spazio in una strada provinciale molto pericolosa a Flaminia con una strettoia derivante da un ponte che abbiamo al nostro fianco. Quindi mettiamo in sicurezza i cittadini e ricreiamo questo collegamento, questo ponte di collegamento tra le due località. Spesa complessiva? La spesa complessiva si attesta intorno ai circa 225 mila euro, il quadro economico era di circa 293 mila euro e grazie anche al ribasso, a seguito del bando che è stato posto in essere, c'è stato questo risparmio economico. A breve dovremo procedere anche al rifacimento di quelle che sono le palizzate lungo questo percorso che sono state vittime di atti vandalici e anche in questo caso dovremo intervenire con una struttura non in legno ma in acciaio, molto probabilmente in acciaio corten, che richiami anche il disegno di questo ponte per creare una continuità lungo questo percorso. Presente all'inaugurazione anche la ditta costruttrice e il progettista. La vostra ditta ha realizzato questo ponte, che cosa significa per lei oggi questa cerimonia? Beh questa cerimonia oggi per me è un orgoglio visto che abitavo qui vicino e quindi ero contento di poter realizzare quest'opera e orgoglioso di averla fatta. Perché la scelta di questi materiali? Ma diciamo che la scelta è stata sicuramente dettata da una scelta di manutenzione, di durabilità perché proprio veniamo dalla sostituzione di un ponte che aveva la struttura principale in legno lamellare e che ha avuto una vita abbastanza breve per una serie di motivazioni quindi nemmeno vent'anni e diciamo che per un'opera pubblica è un periodo troppo breve di durabilità. La scelta che è stata fatta è quella proprio di non ripetere quel tipo di materiale ma di andare in direzione di un materiale in acciaio corten che assume una forma, questa forma tipo ruggine che vedete, una forma di autoprotezione che il materiale ha ed ha quindi una grandissima durabilità senza sostanzialmente manutenzione.